La nostra amicizia è alimentata anche, poc'anzi la Presidente Sandro lo ricordava, dalla presenza di una numerosa comunità moldava in Italia, una comunità ben integrata e apprezzata in Italia per la sua operosità e che offre un importante contributo, un apporto importante allo sviluppo socio-economico dell'Italia. La comunità moldava in Italia rappresenta un ponte fra i nostri Paesi che poggia anche sulle fondamenta solide di legami culturali che ci uniscono.